Si chiama la vela che unisce ed è l'evento benefico che si svolgerà a Fano sabato 17 e domenica 18 settembre per raccogliere fondi a sostegno del progetto Malupa 5.0. L'obiettivo è quello di realizzare una barca per la scuola di vela altamente tecnologica e sostenibile mediante i materiali riciclati e rivolta anche alle persone con diverse disabilità. Una volta realizzato il prototipo della barca verrà affidato all'Associazione di Promozione Sociale di Senigallia la fabbrica dei sogni che si occuperà della sua gestione e manutenzione mettendo a disposizione dei circoli velici che ne faranno richiesta. L'evento si articolerà in diversi momenti e culminerà con la veleggiata che si svolgerà domenica 18 settembre nello specchio di mare antistante il Lido di Fano. Ulteriori informazioni possono trovarsi sul sito del Rotary Club di Fano che organizza queste due giornate insieme ad altri rotari delle province di Pesaro Urbino e di Ancona.